Come fare a combattere l'epidemia? Conoscendola meglio? È iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus. Se fai parte del campione selezionato dall'Ista, sarai contattato dalla Croce Rossa italiana. Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo!